E gli altri? Dopo Santa Cruz ce li siamo trovati addosso Venivano da tutte le parti Che ti sei salvato solo tu, sporco bastardo Hai fatto un buon lavoro Andiamo? Dove andiamo? A nord A nord? Per il canyon di Rio Bravo? Perché? Posto ideale per chi va in cerca di imboscati Conosci una strada migliore? Beh, quella a sud Verso la frontiera Nessuno si aspetta che tu sconfini ora che la zona è in allarmi Già, e allora andiamo a est Hai mai sentito parlare di agua caliente? Sembra quasi un cimitero E per qualcuno potrebbe anche diventarlo È il paese più lurido e schifoso che ci sia al mondo Gente che non ama i forestieri Vero, Groghi? No Non li ama Mai? Hai mai visto questo nostro amico sparare? E voi? Nessuno ti ha mai visto sparare Allora, sai che puoi fare, amico? Facci vedere come spari Come? Entra da solo in paese Ha, 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 ha 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 Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info 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 Bravo 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 Grazie.